Una delegazione dell'Università di Hong Kong ha nuoro in questi giorni per studiare da vicino le opere di Grazia De Leda. Sentiamo Graziano Cano. La prima cosa è il fatto che sia una donna che ha vinto un Nobel, quindi una cosa stranissima anche per l'inizio del secolo del 1900. Quindi la prima cosa che ha colpito è il fatto che ci sia una donna che abbia vinto un Nobel per la letteratura. Essere molto fedele alle sue tradizioni, quindi pur essendo in Roma parlare della sua Sardegna. E ancora il fatto che lei sia così moderna che stia passando dei messaggi così attuali anche oggi. Arrivano dall'Università di Hong Kong ma sono inglesi, americani, filippini, indiani, italiani, tutti a nuoro, accolti ai piedi del Redentore, dal Sindaco e dall'Assessore alla Cultura nel nome di Grazia De Leda, scrittrice premio Nobel, da loro scoperta grazie a un manager nuorese che a Hong Kong è da tempo di casa. Perché è forte, questa potenza della sua scrittura che li ha subito attirati, perché la De Leda è veramente una scrittrice completa. Siamo noi che la trascuriamo, siamo noi che la sviliamo. Le opere della scrittrice barbaricina hanno affascinato tutti, varcando ogni confine. The Pring People, è molto forte questo senso del posto, della tradizione della Sardegna, che è molto differente a una tradizione italiana. Sono già rimasto impressionato quando sono stato là da loro all'Università e abbiamo tenuto alcune conversazioni sul nostro premio Nobel a Hong Kong e ho visto che c'era un interesse straordinario che non ho palpato altrove. Grazie a tutti!